ciao ragazze e ciao ragazzi e bentornati su radio recensioni di bellezza oggi vi voglio tornare voglio tornare a parlare di un argomento che secondo me sta molto a cuore a molte di noi soprattutto chi è portatrice di occhiaie e pensa di sapere tutti i segreti per per correggerle efficacemente ma oggi vi voglio parlare di tre errori che facilmente si commettono quando andiamo a diciamo lavorare nella zona del contorno occhi e soprattutto poi con il correttore tre errori che facciamo a volte in maniera inconsapevole e che però possono dare produrre un risultato molto diverso quindi parliamo di questi tre errori che si possono evitare nella correzione delle occhiaie troverete anche questo articolo nel mio blog recensioni di bellezza ma volevo farne appunto una puntata per parlare per farvi per raccontare appunto quali sono questi tre errori che commettiamo se sei una portatrice sana di occhiaie da panda sarai sicuramente ferratissima su come correggerle e forse avrei letto alcuni articoli che ho scritto sull'argomento su questo blog su come nasconderle leggi correttore cinque segreti per cancellare le tue occhiaie ma forse quello che non sai e che alcuni errori possono comprometterne la correzione ed è proprio per questo che vi parlerò in questo articolo di tre errori da evitare per correggere le occhiaie occhiaie e correzione come sicuramente saprete chi soffre di occhiaie in forma permanente conoscerà sicuramente tutti i segreti per correggerle e per far rimanere più a lungo il make up io ho delle occhiaie molto pigmentate e nel tempo ho imparato molte astuzie per correggerle efficacemente e sono riuscita anche ad accettarle senza sentirmi imbarazzata quando non sono truccata ma a volte si fanno degli errori anche inconsapevolmente che rischiano di rendere inefficaci la tenuta e la coprenza del correttore tre errori di a evitare con il correttore questi che vi elencherò sono gli errori che ho commesso e che voglio condividere con voi perché li possiate evitare contorno occhi applicare le giuste quantità ovviamente bisogna utilizzare un idratante nella zona del contorno occhi è fondamentale perché non è possibile applicare direttamente il correttore sulla pelle asciutta la parte grassa contenuta in essa verrebbe assorbita dalla pelle rendendola secca e compromettendo anche l'aderenza del prodotto per applicare la giusta quantità di contorno occhi risulta quindi fondamentale applicandone troppo poco significherebbe che il correttore non rimanga fissato e ben aderente sulla pelle metterne troppo poco significherebbe seccare la pelle e avere un risultato estetico insufficiente e un contorno occhi disidratato non fissare il correttore il correttore indipendentemente dalla sua texture cremosa in stick in cialda o liquida ha bisogno di essere fissato perché rimanga fermo e resiste a lungo durante la giornata è fondamentale fissare il prodotto con un velo di cipria di buona qualità per avere un ottimo risultato di tenuta e un effetto levegato del contorno occhi la cipria un po demonizzata da makeup artist soprattutto per le pelle mature ma è il miglior cosmetico per fissare il correttore e uniformare la base viso quindi sono molto importanti la quantità e la qualità del prodotto che andremo ad usare in questa fase applicare il correttore nelle giuste quantità se il prodotto è di buona qualità non serviranno quantità enormi di correttore per nascondere gli occhiai meglio procedere in piccole quantità applicando il correttore solo dove occorre ossia dove c'è la discromia picchiettare il prodotto delicatamente per fissarlo e distribuirlo se è necessario ripetere l'operazione sempre applicando piccole quantità di prodotto se invece applicherete troppo prodotto otterrete un risultato pesante e innaturale senza contare che non riuscirete a fissare una quantità eccessiva di prodotto che inevitabilmente andrebbe a finire nelle rughette peggiorando il risultato estetico e appesantendo lo sguardo ora ragazze vi lascio qualche consiglio sul mio articolo su quali sono i miei correttori preferiti ne ho parlato spesso su questo blog e sul mio canale recensioni di bellezza quindi potete andare a cercare i video o gli articoli che parlano di questo argomento e tra questi ci sono i correttori sicuramente in stick della vegas cosmetics sono tra i miei preferiti da sempre il correttore della collistar che è quello in il correttore filler ma poi ci sono tanti altri correttori ci sono i correttori di avon ci sono anche i correttori bio quelli della della puro bio che sono molto molto validi e insomma dovete trovare il vostro correttore con cui vi trovate bene adatto alla vostra pelle quindi adatta alla vostra situazione della vostra pelle quindi preferite magari un prodotto più liquido se avete un contorno occhi particolarmente disidratato se invece avete delle occhiaie molto pigmentate vi consiglio un prodotto in stick perché il prodotto in stick essendovi asciutto è maggiormente pigmentato oppure addirittura potete utilizzare uno di quei prodotti due in uno come per esempio la stra trasformist che è un prodotto sia fondotinta che correttore che è un'ottima alternativa due in uno lo stesso vale anche per il prodotto per i prodotti della vegas per esempio vi ricordo il fondotinta in in crema della vegas che è un'ottima soluzione due in uno peraltro con vitamina e quindi anche un'azione antiossidante quindi ci sono tante tante soluzioni che potete utilizzare e per andare a correggere le occhiaie ma ricordatevi questi tre trucchetti questi tre errori che possono compromettere appunto il risultato di una buona correzione e il risultato appunto duraturo nel tempo io vi saluto spero che questo diciamo questo esperimento vi sia vi sia piaciuto vi sia gradito e ci vediamo a una prossima ci sentiamo a un prossimo podcast ciao a presto iscriviti al canale